Locanda del Sogno, Bartrattoria, Massi Colle del Sogno, Comune di Carenno, ora è sotto lecco qua. Lecco, lecco o lecco? La lecco o sono lecco? Lecco, 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 lecco. La grigna? No, la grigna è da qui, la grigna è da qui. Quella in fondo, no? Qua sopra è il reggone, la grigna e la grignetta. La grigna è da qui, la grigna è da qui, la grigna è da qui, la grigna e la grignetta, questo è il reggone. Dicolo a lui. Non è il reggone, non è il reggone, non è il reggone o no? Il reggone è da qui? Questo è il reggone qua davanti, la grigna e dopo la grignetta o no? E Otter, pensa come te. Quella è il reggone, non è il reggone questo qua? No, è il reggone. Vai fischia! Trova che sia. Il reggone è quello? Quello dietro? Quello lì dietro. Si è il reggone. E' il reggone, la grigna, la grignetta, la grigna, la grignetta, la grigna è la grigna, Mela e l'ottima è tante. La cala, perchè Mela e l'ottima è tante. E fa 99,99. Ah, da me la 99? 99,99. No, da me la 99 è un bel salto. E...